Grazie a tutti. Nuovo incontro del Museo delle Periferie in questa serie di lezio magistralis che introducono la prima che avviene online per motivi alla crisi che stiamo affrontando. Non a caso avviene, diciamo, nel giorno dei Santi, probabilmente, come diceva Brett, sfortunato quel paese che ha bisogno di eroi, quindi siamo chiamati costantemente all'eroismo. Dico questo perché oggi sarà un momento, credo, cru di discussione con il nostro relatore di questa giornata. Vi ringrazio ancora per essere intervenuti anche in questo formato online, che speriamo presto di poter sostituire di nuovo, ovviamente, con lezioni impressione. Diciamo che il nostro ospite di oggi è Alessandro Melis, curatore del Fadiglione Italia alla Biennale di Architettura ormai del 2021, professor di Architecture Innovation a Portsmouth e direttore del Cluster for Sustainable Cities, che è un centro internazionale di studio sull'architettura e la sostenibilità, la cui lezione oggi toccherà molti punti che sono diventati veramente importanti con il tempo, non solo la crisi ambientale, ma anche, ovviamente, la crisi del Covid o, in generale, il momento di crisi molto difficile che il mondo occidentale si trova ad affrontare. Quindi, do il benvenuto a Alessandro Melis. Buongiorno Fabio, piacere essere qui con voi, grazie dell'invito. Sono molto contento di essere qui con voi, di poter non solo fare questa discussione con voi, ma anche poter utilizzare questo momento per mettere a punto alcune ipotesi, alcuni ragionamenti fatti in questi ultimi mesi e magari corregliere l'occasione di scambiare anche alcune opinioni con voi. Sì, diciamo, in questo momento, soprattutto, tutti noi siamo coinvolti, non solo, diciamo, in una generale crisi ambientale, e questo già si potrebbe immaginare, dalle precedenti, da come stavano andando i precedenti avvenimenti degli anni, ma siamo piombati anche in mezzo alla crisi del Covid. Tutto questo, come ha cambiato l'approccio della tua ricerca? Se vogliamo, è stata più che altro una conferma di come stiano le cose, nel senso che fino a qualche tempo fa, mi è capitato, tra l'altro, proprio forse due mesi prima dell'esplosione del Covid, di aver fatto una TED, una conferenza in cui dicevo che la tempesta perfetta sarebbe arrivata, nel senso che sappiamo dalle esperienze in tempo profondo della ricerca che la crisi sanitaria di solito è legata alle crisi ambientali. In quel momento io venivo chiamato allarmista, adesso spero di non essere considerato qualcuno che porta sfortuna. Quello che sto dicendo è che ci sono due modi per leggere questa crisi. Uno è appunto quello di leggerla come una crisi freestanding, una crisi di tipo sanitario, come ce ne sono state altre periodicamente, oppure leggerla come un sintomo di una crisi ambientale più importante che deve essere affrontata in modo più strategico. Ecco, io penso che nel nostro caso, nel caso del cluster for sustainable cities, noi ci siamo convinti che sia questa seconda circostanza. Quindi, diciamo, direi di non porre tempo in mezzo e partire direttamente con il tuo intervento, di cui ci vuoi dire il titolo. Sì, io vorrei parlare della resilienza dal punto di vista delle periferie. Quindi periferie, resilienza e soprattutto, direi, il sottotitolo potrebbe essere periferie e pregiudizio. Vorrei utilizzare questo tempo con voi per riflettere su una ipotesi di ricerca. L'ipotesi è che la periferia sia una astrazione costruita e che di fatto è il risultato di una sorta di pregiudizio, di una sorta di rinificazione che noi, soprattutto dal punto di vista dell'architettura, riflettiamo in tre diverse direzioni. Quindi vorrei parlare di queste tre diverse linee. Cioè il pregiudizio intesa come periferia culturale del mondo, il pregiudizio verso la periferia delle città del sud del mondo e il pregiudizio verso la periferia intesa come quella parte di costruzione della città avvenuta nel secondo dopoguerra nel mondo occidentale. Posso? Mi senti? Sì, sì, ti sentiamo bene. Vuoi cominciare? Se vuoi, so che hai anche delle slide, se vogliamo cominciare a parlare ti lasciamo tranquillamente rischiare il tuo discorso e riserviamo invece le domande poi alla fine della tua lezione. Grazie Fabio, grazie. Allora, penso che dalla regia metteranno... Aspetta, ecco qua, sì, perfetto. Allora... Aspetta tutto schermo. Un aspetto importante, allora dicevo che vorrei riflettere su queste tre percezioni della periferia e cercare di farlo attraverso una lettura di ricerca di tipo transdisciplinare. Quindi utilizzare queste tre definizioni, cioè la periferia culturale del mondo, la periferia delle città del sud globale, la periferia delle città occidentali del dopoguerra, come strumenti anche per poter capire, riflettere sul fatto che questo pregiudizio, il pregiudizio nei confronti di queste tre definizioni, nasconda quella che parlavo prima, una sorta di tempesta perfetta, una crisi ambientale molto più vasta che il risultato appunto di una incapacità di leggere la complessità delle città in questo momento storico. Ovviamente si tratta di una linea di ricerca piuttosto nota, almeno la prima, la periferia culturale del mondo. Ricordiamo tutti una memorabile mostra di Bernard Rudofsky aperta il 9 novembre del 1964, Architecture Without Architects, al MoMA di New York. La frase con cui Rudofsky introduceva questa mostra, secondo me, è abbastanza emblematica. La storia dell'architettura come scritta e insegnata nel mondo occidentale ha riguardato solo poche selezionate culture. Allora, questo è una riflessione che, dal 64, ma anche precedentemente, ma dal 64 in poi ha rivestito, ha investito anzi, numerose ricerche e una vastissima letteratura. Quello che è interessante è che, fino ad oggi, secondo me, è prevalso una lettura di tipo ideologico su questo tema. Nel senso che la critica della letteratura che è stata prodotta dopo, diciamo, quest'inizio, questa pubblicazione seminale di Rudofsky, si è incentrata soprattutto sul problema del pregiudizio inteso come eurocentrismo. Un fatto senza dubbio importante e non trascurabile. Tuttavia, diciamo, in questo momento a mente resta più andare a osservare quali sono le architetture che Rudofsky aveva messo in evidenza. Perché molto spesso, appunto, in questa lettura più ideologizzata, è prevalso il significato, l'idea che Rudofsky mettesse in evidenza opere, come dire, vernacolari oppure informali. In realtà, se guardiamo questo volume, il tema è molto più esteso. Possiamo vedere piante di capitali reali, capitali della Cina imperiale, possiamo vedere architetture di raffinatezza estrema, architetture evidentemente progettate e di qualità sopraffina. Quindi, diciamo che può essere limitativo pensare all'architettura senza architetti, in questo caso, come a un compendio di tutto ciò che non è stato progettato. Perché questo porta con sé un'ulteriore reificazione. La reificazione è che la progettazione, come la intendiamo noi, sia stata praticata soltanto nel mondo occidentale. Quindi, questa è una domanda che per me è interessante, soprattutto perché nel Cluster for Sustainable City lavoriamo molto all'interno di team transdisciplinari. Quindi, questa è più che altro una metafora, però a me interessava lo spunto della ricerca in fisica, proprio perché quello della fisica ha insegnato nel corso dei decenni proprio questa cosa. Cioè, che esista spesso quando sentiamo un rumore di fondo, un'anomalia di un sistema, in realtà noi tendiamo a classificare quell'anomalia come qualcosa di collaterale, come qualcosa di secondario. Ecco, in fisica abbiamo imparato che spesso questa anomalia, questo rumore di fondo, nasconde un portale verso un modello di universo molto più grande, molto più rivoluzionario di quello che abbiamo pensato prima. Tanto per citare l'ultima di queste rivoluzioni, appunto quella della materia oscura. Soltanto di recente abbiamo capito che questa costante cosmologica, questa costante lambda applicata alla relatività generale, all'utilità ristretta da parte di Einstein, corrispondeva in realtà a una possibilità di lettura di un universo molto più esteso. La cosa che per me è stata interessante, soprattutto in questi ultimi mesi, è andare a vedere poi all'interno del mondo della fisica come queste ricerche si sono sviluppate. E tra i vari casi che si possono citare, secondo me, quello più, se vogliamo, anche intrigante, è quello che riguarda l'antenna dei Bell Labs di New Jersey. Perché un po' coincidente, diciamo che l'anno 1964 in qualche modo mi ha incuriosito, perché è esattamente lo stesso anno della mostra di Rudowski e l'antenna si trovava a pochi chilometri da New York. Tanto che la storia di questa antenna è anche legata a una questione che riguarda proprio New York. Il caso di cui sto parlando è quello di Penzians e Wilson, che sono questi due scienziati, penso notti alla maggior parte di noi, che nel 1964 cercarono di cancellare, di eliminare un rumore di fondo mentre provavano a risistemare questa antenna che vedete in questa immagine, per riuscire a captare delle onde radio. Quello che è successo è che non riuscirono a eliminare questo rumore di fondo. La prima impressione fu che forse ci potessero essere dei disturbi da parte di una radio locale, la seconda ipotesi era che New York, appunto molto vicina, creasse qualche disturbo. La terza è che dei piccioni che avevano un edificato creassero questa percezione anomala. La realtà è che Penzians e Wilson per la prima volta captarono, grazie a questa antenna, l'eco fossile del Big Bang. Appunto, quella scoperta che poi nel corso degli anni portò, come sappiamo oggi, a una revisione dei modelli dell'universo, tra cui compresa la rivoluzione appunto della materia oscura. Il discorso, dal punto di vista architettonico, è interessante perché quello che si è verificato è in sostanza che questa antenna, che era pensata per tutt'altro, fu in grado di, fu perfettamente rispondente a un'esigenza, cioè quella di captare questo segnale. Si tratta di una coincidenza fortunata, così la descriveremmo da architetti. Nella fisica invece si parla di serendipity, si parla di una circostanza che non può escludere il fatto che ci sia una volontà di ricerca che si nutre anche di questi elementi casuali, visto che la ricerca, la scienza in generale, si nutre di questi fenomeni casuali. Però, diciamo che la Bell Tower è interessante proprio per due ragioni. La prima è appunto perché chiarisce questa natura anche legata alla serendipity dell'architettura, che vedremo per ragioni di cui parlerò dopo, è un elemento invece che potrebbe rivelarsi estremamente importante. Il secondo è perché di per sé stessa questa architettura, che io almeno personalmente quando la prima volta che l'ho visto sono rimasto affascinato anche dalle qualità estetiche, architettoniche, dalla geometria di questa architettura, ho trovato interessante il fatto che non avessi mai sentito parlare e confermava quell'ipotesi di cui parlavamo prima, cioè il fatto che quando parliamo dell'architettura che è al di fuori della lettura storica che noi ne abbiamo fatto almeno negli ultimi 200 anni, non stiamo parlando esclusivamente di un'architettura informale o vernacolare, stiamo parlando anche di potenzialmente di opere che potrebbero anche indurci a ridefinire in una certa misura la tassonomia dell'architettura stessa. Anche in questo caso non si tratta, la mia non è senz'altro una considerazione del tutto originale. mi viene in mente il numero del 1965 che in questo caso dobbiamo considerare la serendicità del fatto, il fatto che comunque un anno dopo la scoperta di Wilson e Penzian, siamo comunque nel pieno della corsa allo spazio, Hans Hollein nella sua lotta intestina contro il fondamentalismo modernista in Austria nel volume Baud appunto del 1965 propone questa idea, cioè che un volume noto come Technique propone questa idea, cioè che la tassonomia dell'architettura debba essere ampliata a tipologie fino a quel momento non prese in considerazione. Sappiamo che questo fu un percorso di Hollein ma anche degli altri radicali astriaci o perlomeno della prima generazione, parliamo di Walter Pickler e Raimund Abram, che loro hanno percorso fino all'uscita del manifesto di Baud, Allecist Architecture, in cui appunto si incoraggiava l'architettura, il mondo dell'architettura ad agire in forma transdisciplinare. E c'è un altro aspetto che io trovo interessante di questa volontà transdisciplinaria di questi architetti austriaci. Per esempio, quella che porta alcuni architetti come per esempio quelli della seconda generazione, Ausl-Rucker Co., a produrre nel corso degli anni una serie quasi infinita di progetti che noi raccogliamo sotto il nome di Oasis che parlavano, che ci raccontavano una storia di crisi ambientali estese e della necessità di creare degli habitat circoscritti, dei closed-loop systems, delle biosfere. La trovo interessante perché fino ad oggi abbiamo attraversato il mondo del radicalismo e anche quello del lavoro dei disegni come quelli di Ausl-Rucker Co., i fotomontaggi, dandone una lettura anche in questo caso soprattutto di tipo politico o anche di tipo puramente architettonico. Invece ho trovato interessante una volta appunto parlando con Zamp Kelp, l'autore di questa, di queste Oasis, uno degli autori, che mi faceva presente che in realtà loro questa scelta non era casuale e non era neanche motivata dalla volontà di fare qualcosa di fantascientifico. In realtà sono gli anni in cui loro venivano a contatto, almeno così, questa è la storia che mi hanno raccontato, con il pessimismo che per certi versi si poteva cogliere attraverso il report del Club of Rome. Quindi queste serie di Oasis, secondo Zamp Kelp, secondo Zamp Kelp, lui dice sono il risultato di quel pessimismo, rispetto alla fase magari più ottimista di online Pickel della fase iniziale, questa seconda generazione viveva già il trauma dal loro punto di vista delle crisi ambientali e della crisi anche petrolifera. Vediamo che questa fase storica dell'architettura austriaca è costellata da opere stravaganti all'epoca. Oggi potremmo dare una lettura completamente diversa. Tra queste la Z-Bank di Domenig che nel 1974 veniva considerata così anomala da non poter essere classificata in nessun modo, ma che oggi, rivedendola con gli occhi di oggi, potremmo certamente ascrivere a un mondo per esempio dell'architettura parametrica o al mondo dell'esplorazione delle facciate in acciaio che appartiene a un'epoca del tutto diversa da questa. Questo per dire che effettivamente da questo ragionamento dall'idea di considerare l'architettura tutto ciò che rientra all'interno di certi canoni secondo gli austriaci limitava la tassonomia. E in questa fase storica come sappiamo poi questo gruppo di radicali austriaci ricostruisce per un periodo abbastanza breve una storia dell'architettura alternativa. Alternativa al punto da considerare la Endless House di Kiesler come un punto di non ritorno, una biforcazione tra due mondi, da una parte quello della Villa Savoie di Le Corbusier e dall'altra questo delle collision appunto di Kiesler. Quando parlavo di interesse per questo tipo di architetture vediamo che secondo la lettura degli austriaci questa esclusione o come dire questo pregiudizio verso un certo tipo di architettura si trasmette sia in forma sincronica ma anche in forma diacronica. Questa è soprattutto la prospettiva di Abram che questa è una nota personale che considera per esempio la visita al Tempio Pozzo di Paolo Ilatino in Sardegna come una sorta di viaggio iniziatico alla scoperta dell'archetipo dell'archè quindi di questa architettura immanente che proprio a causa della sua immanenza è rimasta esclusa dalla lettura storica più convenzionale dell'architettura appunto che come sappiamo per Abram questa è una sorta di vera e propria ossessione ripetuta in una serie di edifici come la musicale che vediamo qui ma anche nell'Istituto Austriaco di Cultura a New York vediamo che questa idea era un'idea che poi coinvolgeva altre personalità come lo stesso Hans Hollein che faceva questi viaggi con Abram Wolf Priggs e gli altri architetti della seconda generazione vediamo che tracce di questa convinzione si trovano anche per esempio nel progetto Vulcania di Hollein la cosa interessante è la come dire le similitudini anche geometriche che si trovano per esempio tra che ovviamente in questo caso potremmo su cui potremmo ragionare le similitudini tra queste architetture archetipe e per esempio la Bell Tower ed è anche interessante notare che poi per esempio nel Tempio Pozzo lo stesso archetipo che è quello appunto dell'osservazione delle stelle adesso corrisponde a una forma praticamente identica a quella della Bell Tower ma diciamo senza voler entrare ora negli aspetti formali che sono del tutto secondari in questo momento la domanda è se davvero esiste anche in architettura una materia oscura cioè se in realtà quella che noi consideriamo architettura è una frazione dell'architettura che potremmo considerare questa come dire questa lettura ci viene in effetti confermata anche dai calcoli dai dati quantitativi perché alla fine sappiamo che secondo le Nazioni Unite nel 2018 il 23% delle città diciamo della popolazione viveva in insediamenti informali circa il 50% della popolazione del sud del mondo e anche questo è interessante perché il fatto che questa percentuale vari dal nord al sud del mondo è comunque già un indizio di una centralità di una parte di un'architettura rispetto ad un'altra ma l'aspetto che io trovo più interessante è che in realtà questo dato quantitativo delle Nazioni Unite non risolve del tutto la questione perché altri calcoli altra letteratura ci dice che l'architettura progettata come noi la conosciamo non supera più del 20% addirittura quando si parla di firma di architetti alcuni alcuni esiste una letteratura che addirittura la riduce al 2% il fatto è che quello che non torna è che anche prendendo i dati più significativi cioè questo 20% da una parte che riguarda l'architettura chiamiamo così formale il 20% dell'architettura è informale in realtà non risponde non ci dice che cosa è tutto il resto e cosa è tutto il resto è uno dei filoni di ricerca per noi più interessanti almeno nel cluster for sustainable cities qui abbiamo due esempi di due tra le tante territori in cui questa terra tra il formale e l'informale si nasconde ora innanzitutto occorre precisare che quando si parla di informale secondo le nazioni unite di fatto parliamo di slam di bidonville cioè si parla di condizioni di mancanze di infrastrutture tali per cui comunque la qualità della vita raggiunga non riesca a raggiungere come dire una qualità minima richiesta la definizione di informale ovviamente secondo noi secondo le nostre ricerche è molto più estesa quindi l'informale è un mondo all'interno del quale ci sono anche gli slam ma l'informale è anche un mondo dove in realtà questa criticità non è messa in discussione e questi sono alcuni degli esempi vediamo in basso la Medina El Huma di Algeri per esempio un tessuto urbano su cui noi stiamo facendo numerose ricerche e in alto a destra vediamo il centro storico di Mexico City vediamo che queste due strutture urbane non rientrano possiamo comprendere come nessuna di queste due strutture urbane rientri né nell'una né nell'altra classificazione tuttavia il nostro lavoro è appunto quello noi andiamo a misurare come dire la resilienza la qualità della vita attraverso una serie di indicatori che ci consentano di dare dei risultati abbastanza certi e quello che noi abbiamo realizzato abbiamo capito è che per esempio se prendiamo il centro storico di Mexico City qui la qualità della vita è molto più elevata rispetto ad alcune parti chiamiamo così progettate della stessa città lo stesso vale per per Algeri o per alcune città cinesi come vediamo vediamo in questo caso riguardo Hong Kong e Shanghai ma su questo punto ritorneremo qui vediamo in sostanza la differenza tra la Medina di Algeria la città ottocentesca di Algeria sul lato sinistro e sul lato destro vediamo la Citeb Belviu che è la città moderna la nuova città moderna ecco leggendola attraverso gli indicatori sappiamo che quel concetto di El Huma che è un concetto che Nord Africa o gli algeriani utilizzano per rappresentare o per descrivere la sostenibilità e la coesività delle comunità nella parte di Citeb Belviu non c'è mentre è evidente sia nella Medina sia anche bisogna dirlo nella città ottocentesca anche se di origine coloniale ecco perché non ne faccio una questione di per se stesso ideologica quindi diciamo l'ipotesi di ricerca riguarda riguarda questo è possibile ipotizzare una nuova tassonomia dell'architettura che catturi in modo più chiaro più evidente la realtà perché appunto secondo non solo quanto detto da Rudolfski ma anche poi tra l'altro da altre ricerche dello stesso Rudolfski come quelle riguardante la disorbedienza verso la modernità alcuni il pregiudizio sembra spesso dominare nel momento in cui si determinano delle tassonomie e vediamo tra l'altro che soprattutto in questo secondo testo di Rudolfski alcuni schizzi alcune presenze disegnate sono abbastanza incredibilmente attuali e mettono e parlano appunto di un tema ambientale anche abbastanza importante che evidentemente da parte del mondo dell'architettura è stato trascurato per molto tempo ora la domanda è questa ma questa tassonomia perché dovrebbe essere cioè qual è in realtà il problema al di là del fatto ideologico quindi di diversità e di inclusività però appunto dal punto di vista sociale e culturale qual è il problema di questa tassonomia ecco l'ipotesi di lavoro è che la necessità di un cambio di una tassonomia nasce proprio quando questa la visione comune del in questo caso dell'architettura non risponde più alle esigenze della società è quella che la crisi ambientale può essere forse il rumore di fondo più evidente che noi stiamo sentendo in questo momento che ci sta dicendo che quella tassonomia qualche problema lo deve avere soprattutto quando consideriamo che il 36% delle emissioni di CO2 dipendono proprio da quell'architettura cioè il 36% delle emissioni non è il risultato delle costruzioni in senso lato ma è proprio il risultato delle emissioni dovute a quella che noi consideriamo la parte col pedigree dell'architettura e che riguarda tra l'altro soltanto l'utilizzo di queste architetture perché se estendessimo il calco delle emissioni di CO2 alla concezione della città che riguarda poi la realizzazione di quelle architetture è se estendessimo questa concezione anche al sistema industriale che la sostiene quindi all'intero ciclo di vita degli edifici all'intero ciclo di vita della città scopriremo che queste emissioni di CO2 superano abbondantemente la metà quindi potremmo dire che la concezione della della costruzione formale dell'architettura delle città anzi non dell'architettura è la principale causa della crisi ambientale se questo è vero e se ci troviamo di fronte a una condizione di questo genere che chiamiamo equazione possibile cioè più un aumento vertiginoso della popolazione mondiale quindi un conseguente aumento delle necessità di bisogni primari è invece in controtendenza una diminuzione della della disponibilità di queste risorse a causa della della crisi ambientale è chiaro che l'esigenza di una tassonomia di una nuova tassonomia diventa ancora più evidente perché evidentemente è proprio l'idea di questa equazione a non funzionare ora ovviamente io non sono in grado di dire come possa essere la città del futuro come possa essere come possa essere l'architettura che verrà compresa all'interno di questa città del futuro quello che so per certo però sono tre degli ingredienti che caratterizzaranno questo tessuto urbano il primo è naturalmente la l'idea la necessità della compattezza di questo tessuto urbano proprio per un fatto puramente quantitativo matematico il secondo è il concetto della resilienza il concetto della resilienza deriva dal fatto l'applicazione della resilienza della città si deve al fatto che non stiamo più parlando di uno scenario futuro statico stiamo parlando di uno scenario futuro in continuo cambiamento è uno scenario futuro soprattutto il cui cambiamento è determinato da condizioni climatiche estreme quindi resilienza vuol dire la realizzazione di sistemi di organismi che siano in grado di rispondere in modo responsivo a questi continui cambiamenti il terzo evidentemente quello più ovvio è che questi concetti siano estremi radicali è lì che si nasconde l'esigenza di una nuova tassonomia quando parliamo poi del fatto che un cambio di visione della città succede spesso soprattutto in alcuni contesti politici viene preso in considerazione come qualcosa di eccessivo oppure impossibile anche per ragioni di tipo economico dobbiamo sempre ricordarci che in realtà in questo momento stiamo spendendo di più per mantenere in vita questo sistema piuttosto che ipotizzare mettere sul campo l'ipotesi di un cambiamento di questo sistema però veniamo al punto secondo me nodale della questione perché troppo spesso appunto spostando la questione ambientale quindi tenendo distinte le discipline quindi le discipline per esempio la climatologia la fisica la fluidodinamica in questo senso e la biologia dell'evoluzione vedremo perché diciamo che la nostra risposta alle crisi ambientali la nostra risposta al perché le città non rispondono positivamente a queste crisi risulta comunque limitata limitata da una appunto visione disciplinare molto ristretta qui abbiamo per esempio alcuni dei temi che discutiamo normalmente all'interno del mondo dell'architettura dei temi che riguardano la problematicità delle nostre periferie vediamo sulla sinistra la problematicità delle periferie per esempio delle periferie delle città americane ma anche delle città australiane neozelandesi canadesi l'uso quindi estensivo del suolo che va in controtendenza con quelle indicazioni di cui abbiamo parlato è la scarsa qualità prestazionale di questi edifici che spesso non hanno niente non hanno alcun dispositivo che consenta una riduzione per esempio dei consumi e vediamo anche che questo vale sia per la periferia estensiva delle città americane ma vale anche per il cosiddetto downtown che è spesso caratterizzato da macro strutture con curtain wall con fondamentalmente climatizzazione totalmente artificiale e sappiamo che esattamente in questo tipo di strutture si si concentra quel consumo di energia che poi porta a estremi tali da per esempio far crescere i consumi delle città americane dieci volte rispetto ai consumi di altre città più più virtuose che so come Amsterdam come Vienna è giusto per citare due esempi però sulla destra vediamo quali sono le altre idee di periferia che sorgono che ci vengono immediatamente in mente in basso vediamo la classica periferia italiana questa è la periferia di Cagliari che è familiare a tutti noi perché è costituita dallo stesso tipo di tipologia costruttiva che ha avuto grande successo e che ancora oggi noi amiriamo per alcuni versi ma che anche in questo caso si tratta di un tipo di costruzioni che praticamente bruciano risorse a una velocità che ormai non è più accettabile dall'altra vediamo che quando ci riferiamo alla periferia parliamo della periferia della città informale che però ha delle caratteristiche decisamente diverse da quelle che conosciamo ecco allora guardando questi esempi la domanda che ci facciamo è ma qual è la caratteristica la vera caratteristica intrinseca tra queste tre tre periferie chiamiamola anzi un centro due periferie che in effetti se li guardiamo dal punto di vista architettonico sono del tutto diverse e che differenza c'è tra queste tre tre tessuti urbani tra questi tre tessuti urbani e quello in alto a destra beh diciamo così tra le varie differenze che si possono trovare su due in particolare ci siamo ci siamo concentrati il primo è che in realtà quelle queste tre periferie ad alto consumo sono tutte progettate e sono progettate con progettate e dirò cosa intendo per progettazione in questo senso quella invece che a basso consumo ma anche a bassa qualità della vita non è progettata ora qui questo è l'aspetto cruciale cioè evidentemente non sta a me dire che il problema è che ogni volta che si progetta si consuma ma c'è un aspetto della progettazione che vorrei mettere in evidenza che è quello che deriva appunto da questi modelli che appunto secondo Rudofsky sono quelli che hanno su cui si è focalizzata la nostra attenzione vediamo la città di Hilbersheimer vediamo le ipotesi dei grattacieli di vetro di Mies vediamo la città Giardino ma vediamo anche le ricerche fatte da Kevin Lynch che in qualche misura dovevano porre rimedio al determinismo dell'architettura cioè in realtà il tema non è tanto il fatto che siano progettati o meno quanto il fatto che si tratti di una progettazione con una caratteristica molto spiccata che è quella del determinismo cioè quella di ipotizzare uno scenario e di ipotizzare rispetto a questo scenario una serie di funzioni tra l'altro specializzate a cui puoi far corrispondere delle forme e delle infrastrutture è chiaro che come nel caso della città di Hilbersheimer quando ci rendiamo conto che queste funzioni che è l'eroismo della fase storica della fase della crescita industriale dell'industria automobilistica poi è arrivata a un veicolo cieco quella città non si è dimostrata sufficientemente sufficientemente resiliente la domanda è perché non si è dimostrata sufficientemente resiliente ed è vero che come dicevamo prima quando parliamo della perifria culturale del mondo alcune lezioni le possiamo apprendere una delle lezioni interessanti appunto è questa cioè che il pregiudizio diacronico sul progresso in chiave evolutiva dell'architettura ci porta a escludere alcuni esempi abbastanza significativi di architetture per esempio storiche che hanno oggi un'attualità o come dire danno una risposta molto più radicale e più efficace di quello che stiamo facendo in questo momento uno degli esempi più evidenti per esempio è la città di Shiba nello Yemen che analizzando dal punto di vista proprio climatico e delle risposte resilienti alle condizioni estreme del clima è quasi perfetta al punto che ad essa si sono ispirati anche recentemente nella costruzione per esempio di Masdar City che purtroppo non è neanche riuscita a raggiungere obiettivi di consistenza che ci sierano posti però ecco è abbastanza interessante vedere che alcuni esempi di architetture del passato come per esempio il mixed use o la trasformazione delle infrastrutture una cancellazione della specializzazione delle infrastrutture sono temi che nella storia dell'architettura sono ripercorribili per quanto riguarda me è stato estremamente utile ipotizzare un cambio di prospettiva avere la possibilità di vedere il mondo con occhi diversi per comprendere o per avere la possibilità di mettere in discussione alcuni dei pregiudizi che io stesso come tutti noi avevo quindi la periferia come culturale del mondo è anche di fatto un'opportunità una cosa per esempio che non sapevo era che se andiamo a guardare che non sapevo che ho sentito tante volte come molti di noi probabilmente la storia del nino che ovviamente ho capito per la prima volta di cosa si trattasse quando sono trovato dopo quattro anni di esperienza di vita in Nuova Zelanda a vivere anche l'esperienza del nino quindi il fatto che esistano oltre alle stagioni anche dei fenomeni che si sovrappongono a questo fenomeno stagionale che hanno delle fluttuazioni e delle tempistiche diverse ecco per me è una cosa del tutto nuova come il fatto stesso di poter comprendere che esiste una fascia degli uragani che ha caratteristiche climatiche del tutto diverse e come tutto ciò poi si si equilibra all'interno di un ecosistema del tutto autonomo e che è un ecosistema che è tanto unico quanto fragile qui vediamo per esempio che in Nuova Zelanda le specie animali per esempio non avendo vissuto senza predatori per migliaia di anni abbiamo i Weta che sono grilli che non sono in grado di saltare e il cacapo che è un pappagallo che non vola ma l'idea di spostare come dire l'attenzione verso una nuova prospettiva nuovi ambienti culturali e nuove condizioni ambientali e ecosistemiche non ci sottrae tuttavia dall'idea di sovrapporre anche in questi contesti lo stesso modello urbano architettonico questa è Oakland quindi è la la città più importante della Nuova Zelanda e come potete osservare è un mix perfetto tra la West Coast American Coast urbana e l'Europa quindi si tratta di aver trasferito letteralmente qui questo modello producendo tra l'altro dei danni ambientali notevoli a cui tra l'altro il governo attuale sta ponendo rimedio nel senso che diciamo questa idea di sovrapporre questo modello urbanistico in questo contesto ambientale ovviamente ha prodotto una serie di danni ambientali che ora sono sotto la lente del nuovo governo già sin tarde ma altri aspetti per me sono interessanti anche riguardanti la resilienza per esempio legati appunto a questo pregiudizio culturale sulla periferia del mondo per esempio io non ero a conoscenza del fatto che nel periodo tra il novecento e il il millequattrocento il pacifico sia stato colonizzato e sia stato perfino attraversato tra l'altro la certezza dell'attraversamento è arrivata in tempi recenti mentre sappiamo tutto dell' dell'attraversamento dell'oceano atlantico io perlomeno non sapevo niente di questa di questa di questa vicenda la cosa interessante però dal punto di vista architettonico è che la lettura dell'attraversamento del pacifico ci da ci offre una prospettiva diversa anche rispetto all'architettura della lettura dell'attraversamento dell'atlantico cioè l'attraversamento dell'atlantico le caravelle insomma la vicenda che conosciamo poi le vicende successive la colonizzazione dell'atlantico avviene con un modello chiamiamo così di alta tecnologia è basato su una concezione dell'architettura che è fondata sull'uso dell'energia che possiamo leggere in mille modi l'attraversamento dell'atlantico e del pacifico invece è un attraversamento che è avvenuto con come vedete in basso a sinistra con queste repliche è avvenuto con una bassa tecnologia si tratta in realtà di popolazioni che non avevano non conoscevano neanche i metalli eppure hanno sviluppato una tecnologia sufficiente per poter attraversare gli oceani l'oceano questa tecnologia si basava essenzialmente sulla leggerezza cioè sulla la possibilità di considerare gli elementi della natura quindi non come i nemici a cui opporsi ma come come dire proprio come il motore di questa di queste possibilità in questo senso anche l'architettura per esempio delle isole del Pacifico dalla Nuova Zelanda all'architettura Maori ma anche quella dell'isola di Samoa si basa un po' su questo concetto cioè che la risposta ai fenomeni climatici estremi si basa sulla possibilità che queste architetture siano attraversate piuttosto che realizzate con strutture di forza opposta maggiore opposta rispetto a quelle ambientali e vediamo che questa cifra è ancora presente in opere architettoniche abbastanza recenti in questo caso vediamo alcuni noti edifici di Crosson e David Mitchell quindi diciamo la questione della visione del mondo dalla periferia aiuta anche a sviluppare quindi ad acquisire strumenti di diversità che possono essere strumenti utili non in contrapposizione ma in integrazione rispetto a quelli che conosciamo già questo è un altro esempio che secondo me è abbastanza interessante riguardante il pregiudizio in architettura o meglio come noi consideriamo l'architettura in effetti una piccola parte di quello che potenzialmente potrebbe esserlo in questo momento una delle ricerche forse più interessanti per quanto mi riguarda sono e riguarda le ricerche per la ricostruzione del chiave di fluido e dinamica dei centri abitati a Grenada e in Dominica un progetto di ricerca finanziato da un council inglese in collaborazione con i governi locali e la cosa che io trovo interessante è che in questo momento ci troviamo a confrontarci con la Saffir-Simpson Rican Scale che è la scala più nota per misurare la risposta misurare la dimensione la magnitudine degli uragani e dare una risposta in termini archiettonici la cosa che trovo interessante è che come vedete qui i danni che vengono misurati si riferiscono essenzialmente a un'architettura che viene presentata come una casetta di quel tipo come questo tipo di case la cosa che io trovo curiosa e per questo che dico non si tratta di risposta non vorrei che mi si fraintendesse quando faccio vedere questi modelli per esempio nei zelandesi non sto necessariamente parlando della necessità di un ritorno all'architettura vernacolare sto dicendo che esistono spunti all'interno di una ricerca storica che potrebbero portare a percorsi di complessità anche innovativi per esempio in questo caso ci domandiamo perché un uragano per un uragano che ha una velocità di 300 km orari costruiamo in questo modo e invece costruiamo macchine di Formula 1 con queste caratteristiche esattamente per la stessa velocità una volta mi si rispondeva io insegno fluidodinamica applicata agli eventi climatici mi si diceva che era un fatto economico ecco ora il fatto economico non ha più senso non ha più senso dato che effettivamente uno dei più danni prodotti dagli uragani sono una delle come dire delle perdite economiche maggiori per i stati per le nazioni nella fascia nella fascia del appunto degli uragani lo stesso tipo di mandro velocemente lo stesso tipo di pregiudizio c'è nei confronti per esempio dell'Italian Effect ma l'aspetto che mi interessa più di ogni altro a questo punto mettere in considerazione che riguarda il fenomeno delle pandemie è che appunto esistono due modi per affrontare la pandemia del covid uno è appunto quello di ipotizzare modelli urbani che rispondano a un'esigenza come quella della pandemia da covid in termini operativi un altro è appunto cercare di ragionare utilizzando appunto questa conoscenza che deriva dalla dalla visione del mondo che vada oltre oltre quella di quello che consideriamo il mondo dell'architettura abituale perché anche in questo caso lì si trovano delle risposte per esempio sappiamo che il covid se avessimo osservato o meglio i virologi ce l'hanno detto ripetuto a me ce l'hanno detto ripetuto che in realtà il fenomeno dello spillover è un fenomeno che ha dei legami fortissimi col cambiamento ambientale e che quindi il covid-19 non è che una dei tanti sintomi probabilmente nemmeno più quello più significativo resta il fatto che anche in questo caso la nostra risposta è proporzionale al fatto che il suo impatto è stato per la prima volta recepito in una parte specifica del mondo ma diciamo le ricerche per esempio su West Nile Virus che è legato alla alla riduzione dei fenomeni di diciamo all'aridità e all'aumento di tropicalizzazione alla tropicalizzazione delle fasce climatiche prime temperate non l'abbiamo preso in considerazione perché raramente questi fenomeni hanno avuto conseguenze dalla nostra parte del mondo eppure stanno questi fenomeni stanno prendendo piede dovremmo preoccuparci molto presto del West Nile Virus vediamo per esempio un caso nella città del Texas a Keller quello che è successo e vediamo soprattutto l'aumento della febbre dengue per esempio nel Sud America in aree dove prima non si trovava questi saranno fenomeni che ben presto ci troveremo a dover considerare anche dal nostro punto di vista e se avessimo guardato con attenzione avremmo saputo che l'ebola ha avuto se non fosse altro che semplicemente perché il suo impatto è così peggiore del covid da poter essere più facilmente circoscritto per paradosso ma è il risultato esattamente di una condizione di questo genere e anche in questo caso noi abbiamo continuato con un pregiudizio perché l'ebola l'abbiamo sempre collegata a fenomeni diciamo rurali senza considerare che l'ebola soprattutto negli ultimi outbreak ha colpito Kenema e Freetown nei soborghi informali di Kenema e Freetown proprio dove c'è una crescita esponenziale una crescita esponenziale urbana quindi e tra l'altro nonostante questi fenomeni siano particolarmente questi fenomeni nella periferia del mondo siano particolarmente evidenti non sono nemmeno i fenomeni su cui l'organizzazione mondiale della sanità pone il proprio accento perché già in questo momento comunque la principale causa di mortalità nel sud del mondo dipende dal cambiamento climatico perché il cambiamento climatico attacca in modo diretto non solo la qualità dell'aria ma anche l'acqua potabile e in questo momento le morti per disenteria per malnutrizione malaria proprio dovute a questi fattori hanno un impatto decisamente superiore al covid semplicemente anche in questo caso non riguardano la parte del mondo che a noi interessa di più ma cosa possiamo imparare? in realtà possiamo imparare perché queste difficoltà queste condizioni a bassissima a bassissima produzione di energia con bassissime infrastrutture in realtà hanno comunque messo anche in evidenza una serie di dispositivi di sopravvivenza e di resilienza che non erano immaginabili qui per esempio vediamo il campo profughi di Amman uno dei campi profughi di Amman noi siamo abituati a vedere quelli come dei campi ma in realtà questi questi territori molto spesso poi si sono solidificati ecco sappiamo per esempio che questo campo profughi in particolare tra l'altro da uno dei miei ricercatori è al centro di uno degli studi perché abbiamo misurato che l'accesso alle risorse o meglio le risorse utilizzate nel campo profughi sono molto minori quindi l'impatto pro capite dell'utilizzo dell'acqua e dell'utilizzo dell'energia è molto meno rilevante rispetto a quello della città formale di Amman ora tutto questo ci porta di fronte a un aspetto con cui vorrei concludere che riguarda anche un diverso campo di esplorazione della ricerca che è quello della ricerca in campo biologico cioè in biologia diversamente rispetto all'architettura che consideriamo quando parlavo di pregiudizio diacronico mi riferisco al fatto che noi comunque consideriamo la storia dell'architettura come una storia che comincia al massimo duemila anni fa e che cresce in modo progressivo ecco questa idea che noi abbiamo della storia dell'architettura in realtà è un'idea come dire della struttura della civiltà umana e della concezione della storia che attraverso gli studi di biologia dell'evoluzione soprattutto è già stata messa in discussione ampiamente dalla fine dell'ottocento e soprattutto a cavallo degli anni ottanta è stata completamente rivoluzionata eppure sembra che niente di tutto ciò ci abbia in qualche modo sia arrivato a noi cioè quello che sto dicendo è che in realtà i fenomeni ambientali i fenomeni climatici i fenomeni globali sono stati studiati in biologia dell'evoluzione su un arco di tempo amplissimo per quanto riguarda l'uomo addirittura a 200.000 anni e attraverso lo studio di questi fenomeni abbiamo anche capito e soprattutto Stephen Jay Gould è uno dei grandi maestri di questa rivoluzione tassonomica della biologia che che alcuni alcune cose che succedevano nella società umana venivano riconosciute come progresso ma in realtà tale in realtà non lo rappresentavano semplicemente perché in un arco temporale di 200.000 anni invece si tratta come dire di risposte e di fluttuazioni a condizioni contingenti uno degli aspetti per esempio è la secondo Stephen Jay Gould più rilevante è l'idea della centralità dell'uomo nell'evoluzione un aspetto che ha messo in discussione ha messo al centro della storia evolutiva dell'uomo il pensiero lineare mettendo in secondo piano il pensiero associativo ora sappiamo per esempio da queste immagini delle prime immagini delle opere d'arte sulle rocce dei disegni delle mani ma anche della rappresentazione degli animali che forse secondo studi recenti il 70% di queste immagini sono state realizzate di questi disegni sono state realizzate da donne questo mette in discussione un'idea del progresso della nascita della creatività e soprattutto secondo Heather Pringle la priorità del pensiero lineare rispetto al pensiero associativo ora non c'è tempo di spiegare nel dettaglio cosa questo significa però dal punto di vista architettonico quello che si può dire è che questo fenomeno di reificazione cioè questa idea che esista un processo lineare di progresso ci ha portato a considerare il determinismo come uno strumento essenziale o il più raffinata la più raffinata espressione dell'intelligenza umana ecco questi studi di biologia dimostrano che così non è che in realtà il pensiero associativo ha un ruolo determinante nell'evoluzione della civiltà e che soprattutto il pensiero associativo è lo strumento che ci consente di essere più resilienti è lo strumento che consente di attivare una modalità di sopravvivenza quando le crisi ambientali sono più evidenti quindi in sostanza semplificando quello che si potrebbe dire è che la nostra idea di progettazione che è improntata al diciamo si basa sul paradigma del determinismo quindi della determinazione di uno scenario e della realizzazione dell'associazione di funzioni e quindi conseguenzialmente di forme rispetto a queste funzioni è un paradigma che in biologia è stato messo in discussione in favore di un altro paradigma che Stephen Jay Gould ha chiamato exaptation che opera in modo diverso cioè la resilienza non è in funzione del determinismo ma è in funzione del aumenta in funzione della diversità della variabilità e della ridondanza delle strutture ecco tutto ciò non è rappresentato c'è tempo per approfondire questo tema non è rappresentato da questo tipo di paradigmi che vediamo un altro aspetto interessante su cui vorrei concludere è che per spiegare il concetto di exaptation quindi di questa di questa forma indeterministica associativa di progettazione che viene utilizzata appunto dalla selezione naturale in contraposizione all'adattamento che è la forma deterministica è una cosa che ricorre in architettura cioè Stephen Jay Gould per spiegare ai propri studenti per spiegare nel momento di maggiore rivoluzione della tassonomia della biologia dell'evoluzione ha utilizzato l'architettura per spiegare appunto attraverso l'architettura come gran parte di quello che noi abbiamo progettato è stato progettato attraverso la relazione di ridondanza varialità e diversità di forme non attraverso l'apparente certezza che predire uno scenario ci avrebbe consentito di salvarci da crisi ambientali che non erano prevedibili per arrivare poi a un punto che appunto deriva da questa analisi fatta da Stephen Jay Gould che nel momento in cui è necessario cambiare la tassonomia e quindi spostare l'asse dal pensiero lineare al pensiero associativo e conseguentemente spingere l'acceleratore verso i sistemi creativi che sono ridondanti variabili e pieni di strutture diverse è necessario cambiare la piattaforma per realizzarlo cioè è più importante in questo momento anziché pensare a che tipo di città del futuro dovremmo aspirare è più importante pensare che tipo di società è in grado di realizzare quella città del futuro ecco se seguiamo juristicamente l'ispirazione che ci viene dalla biologia quello che dovremmo fare è aumentare più possibile la diversità della ridondanza e la variabilità della nostra società a partire per esempio dalla centralità della figura femminile che ha dimostrato spesso in passato nelle poche opportunità che ci sono state di avere un ruolo centrale nella capacità di modificare i paradigmi della nostra della nostra città per arrivare poi a quello che è il paradigma della genetica che è stato che ha corroborato questa visione della biologia dell'evoluzione della perontoropologia di cui parlavo prima cioè Johan Birney che è uno dei più famosi genetisti ci ha spiegato dopo aver sequenzato il genoma umano che le caratteristiche di tutti i sistemi creativi quindi sia il genoma sia il cervello umano sia poi tutto ciò che il cervello umano è il grado di produrre è proprio questo la capacità di creare strutture ridondanti variabili è il più diversa possibile lui usa una definizione che riferisce al genoma che però mi fa piacere ripete proprio perché ho avuto occasione recentemente di parlarne con lui ho chiesto se potevo azzardare questa definizione lui ha consentito e mi ha detto ecco sì senz'altro dal punto di vista della genetica potremmo dire che la città del futuro per essere resiliente dovrebbe essere una città come una giungla popolata da strane creature e qui vediamo alcuni esempi di lavori degli studenti che sono stati sollecitati in questa direzione grazie Dario Fabio mi senti? Sì ti sento ok mi senti grazie Alessandro veramente una presentazione molto interessante molto generosa credo che veramente ricca di spunti credo che ci siamo già alcune domande alcune possibili sollecitazioni una si era prenotato già prima per parte la Giorgio De Filis e invito quindi a porre la sua domanda ciao Alessandro ciao Giorgio grazie le domande sarebbero mille però lascio spazio anche agli altri te ne faccio una complessa partendo però da una battuta che riguarda il mamma seguivo la diciamo così il tassonomista urbano quando descrivevi diciamo gli slam eccetera e quindi mi chiedevo se uno slam che si è trasformato in museo così fosse una specie di ornitorinco per il tassonomista insomma questa era una battuta diciamo ho provato a scriverla ma ho sbagliato il dove invece la questione era un po' questa che per me è una questione politica cioè possiamo visto che dal 2007 il 50% della popolazione più una degli umani è diventata urbana e quindi è che è un salto antropologico importante diciamo possiamo iniziare a considerare la città come l'ecosistema privilegiato dai sapiens del terzo millennio punto interrogativo cioè se questo è vero al di là del fatto se la città sia malsana vivibile ecosostenibile in termini proprio di vita diciamo salubre no di starci bene eccetera diciamo non è importante rivendicare diciamo questo ambiente costruito come dire no come dire l'opera esosomatica più complessa prodotta dagli umani probabilmente no però c'è ridefinirlo come ecosistema questo lo dico per mettere al centro la questione dell'abitare e la questione dello spazio pubblico e la questione del bene comune cioè se quello è l'ambiente dove vivono la maggior parte degli umani nel terzo millennio non dovremmo difenderlo da attacchi ad esempio quelli finanziari no io mi ricordo sempre questa questa piantina disegnata tutta di blu che ci mostrava Saskia Sassen di Londra che è la città dove mi pare tu risiede adesso no e questo blu erano le proprietà di cui non si conosceva il proprietario no cioè praticamente l'intera città allora noi ci troviamo in una condizione in cui da una parte siamo gli esseri viventi che abitano questo nuovo mondo che è la città privilegiato dagli umani e dall'altra però delle forze estrattive che attaccano questo ecosistema a volte cacciando quegli stessi umani no cioè ci sono anche forze espulsive la periferia in parte è frutto di queste spinte ai margini no che cacciano coloro che invece per definizione dovrebbero abitare la città no allora diciamo proprio politicamente prima ancora che dal punto di vista dell'ambiente anche se le due cose le vedo molto connesse non dobbiamo rivendicare questo ecosistema come come la nostra casa e quindi fare politiche che abbiano come dire a difesa e a cuore chi abita le città compresi chi le visita io non ce l'ho con i turisti insomma chi la attraversa parlo sempre diciamo degli umani rispetto a non so come definirle insomma questi tripodi della finanza globale che alla fine forse sono degli algoritmi che usano come dire le case o i territori le stoccano per ancoraggi a terra di altre operazioni no vabbè Giorgio non posso che essere d'accordo ogni volta che mi si dice beh l'architetto deve fare questo lavoro deve fare il lavoro dell'architetto e non altro io mi trovo a non essere d'accordo nel senso questo è il momento in cui l'architetto il pianificatore deve avere deve prendersi delle responsabilità soprattutto politiche e per le ragioni per le ragioni sono quelle che dicevi tu cioè la città è rinunciabile nel senso che nel senso che per quello che abbiamo detto prima dal punto di vista ambientale in chiave globale non esiste non esiste un'altra struttura insediativa che possiamo prendere in considerazione se non quella possiamo anche non chiamarla città se non quella ad alta densità ad alta compattezza infrastrutturata eccetera eccetera poi possiamo raccontare parlare di policentrismo quindi centri come dire di polarità interna eccetera però possono essere possono essere equivoche queste cose perché come dire esistono modelli diversi il modello è della città poi la città può essere declinata in diverse maniere e il problema vero è quello che dici tu cioè l'architetto deve avere un ruolo deve cominciare a capire che il il modo in cui considera in cui indaga esplora la città deve essere deve avere anche una modalità politica la modalità politica che però secondo me l'architetto deve tenere in considerazione non per ripetermi è proprio quella cioè qual è lo strumento perché quel sistema quel sistema in qualche modo l'ecologia ci sta portando nella stessa nello stesso luogo cioè quel sistema politico economico che tu hai descritto è esattamente il modello di non diversità di non variabilità e di non ridondanza che noi vediamo anche nelle strutture fisiche della città e tra l'altro questa cosa ci è già stata insegnata ci è già stata detta senza prendere in considerazione Jane Jacobs ma se prendiamo in considerazione Kevin Lynch Christopher Alexander questo ci è stato già detto cioè è chiaro che la città è disegnata in un certo modo non tanto per la non per il benessere delle persone che la utilizzano quanto perché questa città risponde ha delle esigenze di una parte della società e lì e lì ci siamo ora la mia domanda la mia domanda è dato per scontato che la città è il ruolo come dici tu è un ruolo è un è luogo irrinunciabile e che i segnali di fondo i rumori di fondo ormai sono così forti da renderci da assordarci cioè quello delle crisi ambientali in che modo l'architetto può contribuire a innescare dei processi positivi affinché la città non sia solo il luogo della chiamiamolo così della grande finanza o di una piccola parte dell'economia gli studi di cui ti parlavo che riguardano Mexico City e che riguardano che riguardano Algeri trattano proprio questo tema cioè esiste la possibilità ambiziosa che progettualmente modificando la città secondo certe caratteristiche di ridondanza variabilità scusa se lo ripeto ridondanza variabilità e di diversità si inneschi un processo che rende più difficile la cooptazione funzionale di queste città da parte di chiamiamoli così di forze economiche che non mirano al benessere delle comunità quindi in realtà esiste la possibilità che la progettazione la forma della città contribuisca a rendere meno presenti quelle forze lì la domanda è quali sono queste per me la domanda è quali sono queste linee che consentono alla progettazione di fare questo tipo di lavoro e dagli studi che abbiamo fatto come dicevo prima la cosa più importante è la piattaforma cioè in questo momento è importantissimo avere una piattaforma più estesa possibile di diversità anche da parte di chi opera in questo campo cioè banalmente anche questa è un'affermazione politica o se vuoi femminista o anche ovvio o banale gli uomini che hanno progettato fino ad oggi in una parte del mondo non sono capaci di opporsi a quel sistema che hai descritto tu non sono capaci perché sono inerzialmente influenzati da quello stesso sistema quindi è impossibile farlo esiste una forma ed esiste e il modo è questo è questo è coinvolgere nella piattaforma di lavoro persone che vengono dai margini del mondo dalla come dire dalla periferia perché sono convinto che sia realmente così perché prendiamo due casi due casi cioè dal nostro punto di vista potremmo dire che questo quello che sto dicendo è una cosa impossibile ok lasciamo perdere quello che diceva Falcone ogni fenomeno umano in realtà ha un inizio una fine quindi finirà la mafia finirà anche il come dire il neocapitalismo però in realtà e questo sta già finendo secondo me io sono un ottimista allora guardiamo la Nuova Zelanda guardiamo l'Islanda allora lì il meccanismo si è rotto apparentemente non so quanto durerà però abbiamo due nazioni con un primo ministro donna che per la prima volta in due casi ha detto la crisi ambientale è al primo posto e faremo tutto quello che è necessario per rimuovere come dire le forze economiche che fino ad oggi ci hanno ostacolato in questo processo quindi io sono ottimista perché evidentemente ai margini del mondo nel momento in cui chi guida un paese fa parte di un mondo che non è stato compromesso dall'inerzia della nostra società queste cose sono possibili non so sono un idealista Giorgio tu che dici no 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 ma io sono assolutamente convinto che delle crepe ci siano anche se hai ragione tu diciamo bisogna che questo sistema diciamo finanziario capitalista aggressivo fatto di T-Rex si estingua da solo probabilmente ma delle crepe ci sono e sicuramente dove c'è meno pressione può nascere qualcosa di nuovo quindi le periferie quindi alcuni luoghi che non sono i primi ad essere attaccati da quella macchina che non c'entra niente e con le ragioni per cui noi abbiamo deciso di abitare la città è questo che non si capisce cioè alla fine le scelte anche della politica a favore degli umani sono impedite dal fatto di partecipare a quella stessa logica di valore metro quadro non so come dire no quando uno spazio per la città a un certo punto si toglie no faccio esempio la casa delle donne o altri spazi perché no quegli spazi valgono metro quadro come li calcola la finanza quando li mette in banca no per a garanzia di altre operazioni magari no un pochino più fumose un pochino meno solide no ecco diciamo che il problema è proprio uscire da quella stessa logica mentre siamo tutti dentro no il problema è che alcune cose andrebbero rivendicate no non come valore metro quadro ma come spazio come l'acqua e l'aria no se abbiamo fatto una battaglia per l'acqua no forse saremmo disposti a farla per l'aria dovremmo farla anche per lo spazio della città che pure se è fatto della somma di particelle private deve rimanere pubblica per definizione e quindi se quelle particelle private cadono troppo in mano certe logiche che sono logiche invece estrattive aggressive no forse anche disumane mi permetto di dire ecco lì bisognerebbe intervenire il problema è che chi è chiamato a intervenire usa eh quegli stessi criteri per valutare se stesso il proprio operato quando una città fa il bilancio e mette il PIL segna i metri quadri come no lo fa la banca e la finanziaria allora ecco lì si crea un po' il limite diciamo ma guarda posso posso fare una notazione su questo che hai detto cioè lì eh questo è proprio eh l'esempio classico che mi sentirei di fare di reificazione quello che dicevo prima cioè di trasformazione in realtà di un fatto che è reale diciamo che non è esattamente così come ce lo descrivo ti faccio un esempio secondo me diciamo secondo i dati che io ho a disposizione avere una città più diversa quindi con spazi spazi pubblici più generosi eh e che tenga in considerazione il ciclo della vita eccetera eccetera è una città che economicamente è più vantaggiosa per tutti anche per quelli quelli che pensano che non lo siano la dimostrazione più evidente di quello di cui sto dicendo e come dicevi tu è la grande crepa che si sta creando è semplicemente nel modo in cui calcoliamo l'economia in questo momento no eh e faccio l'esempio più ovvio ma così evidente da essere paradossale l'Australia cioè l'Australia aveva aveva una carbon tax è stata l'unica nazione a eliminare la carbon tax a un certo punto e noi compresi noi italiani voglio dire siccome vivevo da quella parte del mondo io mi ricordo l'entusiasmo di l'entusiasmo comunque i complimenti verso l'Australia nel momento che ha cancellato la carbon tax e il PIL il GDP dell'Australia è schizzato perché loro hanno ripreso tutte le attività minerarie che conosciamo ok i giornali decantavano il modello australiano il modello australiano ora io non ho letto su nessuno dei giornali che hanno parlato della crisi dell'Australia l'anno scorso degli incendi alcun riferimento a quell'economia cioè noi sappiamo esattamente che quel vantaggio di GDP che l'Australia ha messo in gioco se l'è completamente bruciato e si è come dire costruito e si è rinchiuso in un vicolo cieco però sono due mondi in questo momento dal punto di vista dell'economia spicciola sono due mondi che non comunicano tra di loro perché noi calcoliamo il vantaggio economico come lo abbiamo calcolato fino ad oggi in resa economica in dieci anni senza calcolare lo svantaggio economico che ormai dal punto di vista ambientale è diventato enorme come dicevo prima nelle case nelle costruzioni a Grenada prima si diceva si costruiva di cartone perché costava meno ma adesso devi costruire di cartone ogni tre anni cioè il problema non è tanto che esistono due mondi uno contro l'altro il mondo dell'economia e dell'alta finanza e l'altro il mondo per quello io ogni tanto dico voglio andare al di là del fatto ideologico perché non esiste solo il mondo dell'economia e della finanza e l'altra parte il mondo della giustizia esiste un mondo dell'economia e della finanza che non ha idea dell'economia e della finanza cioè che non è minimamente preparato per rispondere a le modificazioni che non sono solo ambientali ma che hanno delle ricadute economiche evidenti è un mondo dell'economia e della finanza che non è pronto a far questo non tutto ovviamente ci sono casi virtuosi però quello che voglio dire è che per paradosso che per paradosso se si riuscisse culturalmente a capire qual è il fenomeno che stiamo affrontando ci sarebbe un vantaggio anche economico per tutti ne sono convinto io però avrei altre cose ma lascerei invece la parola vedo tanti amici quindi si avanza tempo dopo se no grazie mille intanto grazie Giorgio grazie Giorgio e adesso darei la parola a Emanuele lo giudice che si era prenotato per fare una domanda ciao Emanuele non ti sento il microfono mi sa che è chiuso mi senti? ora ti sento è stato un intervento molto interessante ricco di punti e di eh molto molto bello io volevo fare una domanda sul sul luogo sul concetto di luogo che la rivoluzione internet e l'uso del cellulare hanno messo un po' in discussione deterritorializzando il luogo stesso questo ovviamente crea e genera varie delle conseguenze molto forti soprattutto per quanto riguarda sia la città che l'architettura perché se il luogo e noi stessi come adesso stiamo facendo la città e gli spazi urbani io non li chiamerei più spazi pubblici perché noi adesso stiamo vivendo i nostri spazi privati sono diventati spazi pubblici quindi dividerei spazio urbano dallo spazio privato appunto la rivoluzione informatica come quella che siamo vivendo adesso ha messo in profonda crisi profonda crisi il concetto di luogo ma anche nel mondo del lavoro che la città il motore principale della città è sempre stato prima di tutto il lavoro infatti le grandi esplosioni che abbiamo avuto nel dopo guerra in poi sono state legate appunto alla città come motore per lo meno soprattutto nei paesi del terzo mondo legate alla l'idea del lavoro di centri di propulsione e di concentrazione di appunto di di attività di tipo lavorativo e volevo sapere se appunto il luogo stesso mette in crisi la deterritorializzazione del luogo mette in crisi anche il concetto stesso di luogo di lavoro e il luogo i luoghi urbani i luoghi di 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 connessione anche pubblica di di incontro sotto che cosa pensi tu su questa e quali possono essere le prospettive future ma no difficile fare previsioni perché in genere facciamo previsioni sbagliate allora secondo me un aspetto da considerare considerare rispetto per esempio alla pandemia è questo cioè come dicevo prima se consideriamo la pandemia come un fatto a sé stante che ci dà delle indicazioni in termini assoluti può essere un rischio cioè ridisegnare come è successo in alcuni casi in alcune proposte ridisegnare una città sulla base delle tendenze che sono state messe in evidenza dal covid può essere un rischio enorme perché il covid ha una ha delle caratteristiche che impongono certe per esempio il distanziamento sociale tempi di contagio con una certa durata eccetera queste tempistiche possono essere queste modalità possono essere estremamente diverse rispetto ad altre modalità che si presenteranno nei prossimi anni dovute però alla stessa causa cioè alla stessa causa ambientale cioè alla alla necessità per esempio di rispondere ad altri fenomeni di spillover ai fenomeni di 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 crisi sanitaria dovuti alla mancanza dell'acqua e così via cioè dobbiamo sempre mantenere una certa distanza critica anche rispetto al fenomeno contestuale e non considerarlo come una tendenza perché questo è appunto quello che Stephen J. Gould diceva nel suo testo diciamo uno dei testi più importanti che si chiama Full House è il grande rischio cioè il grande rischio di trasformare un fenomeno in tendenza un accadimento in tendenza non vuol dire trascurarlo vuol dire che quello che dobbiamo prendere come insegnamento è ciò che possiamo integrare non cambiare una cosa per un'altra mi spiego cosa voglio dire cioè quello che stiamo vivendo ora per esempio la comunicazione online è una cosa che arricchirà senz'altro l'idea dello spazio non lo può sostituire non lo sostituirà prima Giorgio parlava di Saskia Sassen e su questo avevamo parlato proprio con lei con Richard Sennet scusa non mi veniva il nome Richard Sennet appunto diceva quello cioè stiamo attenti che questo non ci sta il covid non ci sta dicendo che dobbiamo eliminare lo spazio pubblico ci sta dicendo anzi che lo dobbiamo rinforzare che lo spazio pubblico è più complesso e probabilmente deve essere integrato di funzioni che fino ad oggi non abbiamo considerato cioè l'idea della città che abbiamo oggi è la città è fatta in un modo per certe funzioni ora il covid ci sta dicendo che deve essere fatta in un altro modo no la città deve essere fatta in modo più complesso rispetto a come l'abbiamo disegnata oggi non in modo diverso non in modo più limitato ma in modo più complesso cioè ogni forma blended va bene uno spazio pubblico deve essere fisico deve essere digitale deve esistere non esistere devono esistere più gradazioni tra spazio semiprivato e spazio semipubblico in uno stesso contesto cioè quello che sto dicendo è che noi dobbiamo quindi non è tanto la cosa in sé quanto il modo in cui ragioniamo ragionare più in secondo concetti di entropia che secondo concetti di alternanza di usi cioè di aumento continuo di complessità più aumenta la complessità più avremmo opportunità di creare una città uno spazio un luogo che sia resiliente più pensiamo che anziché un luogo dobbiamo considerare un altro più ci infiliamo in questa idea di reificazione dello spazio quindi quello che sto dicendo è che in realtà quello che è descritto il cambio che mi è descritto non mi preoccupa o non mi esalta nel momento in cui quello lo consideriamo non come un'alternativa ma come un'integrazione rispetto all'idea del luogo che abbiamo oggi non so se mi sono spiegato Emanuele ma io la penso esattamente come te nel senso l'uno non esclude l'altro però ovviamente implica delle notevoli trasformazioni perché non non si ha più esclusivamente quel tipo di realtà perché questa qui per me il covid non ha fatto altro che mostrarci la nostra contemporaneità nella maniera più diretta perché questo questo tipo di situazione in tanti lo usavano prima adesso è diventato un sistema che è molto più molto più diffuso anche l'idea dello smart working cioè e l'idea stessa dei co-working per esempio hanno messo è una è una prova di questo tipo di trasformazione il covid l'ho visto io come appunto un improvvisamente tutti siamo diventati contemporanei nel senso che ci siamo abbiamo aperto gli occhi della realtà così com'è però credo che appunto aumenta la complessità però a sua volta rende deboli tutta una serie di situazioni perché per esempio l'idea delle molte aziende sicuramente continueranno questo tipo di situazione anche perché economicamente è molto vantaggioso ma l'uno non esclude l'altro è una commissione tra le varie situazioni tra una situazione prettamente solida a una situazione più più gassosa più appunto smaterializzata ma appunto il credo che dovremmo renderci conto come tu hai detto che l'uno e l'altro devono si devono incontrare perché generano delle 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 trasformazioni veramente molto molto forti i grandi di grattacieli dedicati esclusivamente a un ufficio non avrebbero più senso assolutamente quindi trasforma sicuramente trasforma la città è una prova anche Amazon il negozio più grande del mondo che non ha negozio però ha dei grandi magazzini che fisici assolutamente fisici però non c'è più la vendita al dettaglio meno di su questo aspetto quindi no no è esattamente così anche secondo me cioè il problema troppo spesso ma esattamente questo è come funziona il nostro cervello troppo spesso ci diciamo ma deve essere fisico o deve essere online l'evento ma la realtà la realtà è che che questi due aspetti fanno parte è un po' come una volta la città ovviamente ho citato per la terza volta che il problema non era dire se quello spazio dovesse essere destinato alla residenza agli uffici all'industria il problema vero è che il mix use è la chiave cioè che uno spazio deve essere potenzialmente destinato a tutte e tre queste cose ora sta avvenendo la stessa cosa come dici tu la forma la parte gassosa diciamo così la parte materiale deve essere integrata con la parte materiale cioè il mix use oggi si intende non più il mix use nel senso alternativo alla specializzazione funzionale ma si intende anche la diversità del workflow che può essere più o meno fisica quindi è sempre un fatto come dicevo prima di entropia del ragionamento piuttosto che di alternanza o di diversità e ti faccio ti faccio ti do una come dire una nota del perché secondo me questo importante perché la realtà qual è la realtà è che per esempio ma senza contestare quello che è stato detto da alcuni colleghi perché dal punto di vista operativo avevano perfettamente ragione è che se non ci ritroviamo in questa situazione cioè diciamo che il distanziamento sociale ci sta imponendo di diventare di essere più attenti al al come dire alla questione alla questione del distanziamento quindi tutto online e tutto con maggiori distanze più arioso ok ma quello che non cogliamo è che questo va in controtendenza quindi maggiori città spostiamo le infrastrutture allarghiamo le strade allarghiamo gli appartamenti perché ci stanno ma non ci accorgiamo che la ragione della tempesta perfetta di cui parlavo prima la crisi ambientale è che a livello globale questa condizione ha portato un'espansione chiamiamola così urbana al di fuori dell'ecosistema urbano come diceva Giorgio e all'interno di altri ecosistemi che hanno scatenato come dire una reazione di questi ecosistemi che è lo spillover cioè se noi ragioniamo in termini di funzionalità ci troveremmo a dover affrontare diventa sostanzialmente un sistema come dire un cane che si morde la coda quindi non dobbiamo affrontare il problema in termini di funzionalità ma dobbiamo affrontare il problema in termini di opportunità che poi è la definizione di exaptation di cui parlavo prima cioè l'exaptation ci dice che non dobbiamo fare l'errore la natura non fa l'errore di dire voglio progettare quel luogo per quella data funzione la natura dice io progetto in quel luogo tante possibili condizioni fisiche fisiche da consentire risposte a condizioni che io non sono in grado di immaginare in questo momento ecco il mondo virtuale è un'opportunità anche da questo punto di vista che è infrastrutture grazie grazie per la tua domanda ma non per la tua risposta Alessandro insomma mi sembra che il che è un caso veramente rinfrescante un po' di messianesimo in tanta in tanta apocalisse diciamo in cui siamo immersi si era prenotato per per parlare Carmelo Baglivo che è invito qui tra noi Carmelo ciao Alessandro ciao Carmelo grazie per la lezione è stata è stata una bella lezione e devo dire che guarda ho riempito quattro pagine di appunti per quattro pagine di appunti no in realtà poi appunto questi questi appunti segnati per questo blocco segnano un po' dei punti di contatto anche dei punti di distanza di quello che hai di quello che hai spiegato cioè nel senso che sinceramente alcune volte diciamo capisco una come dire una un grande ottimismo come dici tu nel in qualche modo capire alcune dinamiche del mondo come la comprensione della città e altre volte invece ho dei dubbi come li hai tu come li hai espressi tu ma dei dubbi che sono anche come dire delle 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 potenzialità verso il progetto cioè il dubbio come elemento della progettazione no e per questo diciamo alla fine mi sono mi sono mi sono andato verso verso diciamo una delle considerazioni molto più ottimistiche che invece pessimistiche no perché sinceramente è vero che il determinismo tu hai mostrato i Belsheimer hai mostrato Mies le città giardino eccetera il determinismo in realtà non è riuscito a dare quelle risposte alle domande che si era posto no però diciamo perché perché ci siamo ci siamo trovati di fronte a una complessità urbana una complessità che a un certo punto non riusciamo non riusciamo più a gestire però c'è anche diciamo anche come dire l'effetto anche l'effetto che tu parli cioè quello di andare come dire a individuare delle nuove dinamiche secondo me anche questo ha delle difficoltà no cioè nel senso mi sembra una specie di passaggio tra un determinismo e un ecodeterminismo cioè nel senso che entrambi secondo me nascono da un tentativo di comprensione di fenomeni che ci sfuggono molte volte ci sfuggono per questo diciamo nel e questo forse è un po' una provocazione che ti diventerà forse una domanda è quello che è quello che forse alcune volte porta la disciplina dell'architetto la disciplina architettonica invece di essere propositiva cioè invece di essere di comprendere e di modellarsi rispetto a queste a queste nuove complessità invece è il contrario cioè che invece la disciplina si tira indietro diventa un autoreferenziale perché in quel momento non diciamo nega totalmente la complessità esterna per diventare un oggetto come dire indipendente autonomo proprio per per raccogliere tutte le complessità possibili e non dare nessuna risposta per questo diciamo come dire e parli vedo vedo un po' questa questa difficoltà cioè capisco capisco benissimo le tue le tue intenzioni però diciamo sono un po' provocatorie sono un po' provocatorie io per dirti per la disciplina che cosa gli succede poi diciamo secondo me è anche molto importante un po' una definizione di periferia nel senso hai fatto vedere delle immagini di periferia del mondo però secondo me come dire c'è ci sono varie scale della periferia la periferia di una città come dire le presenti di un continente i fili del mondo per cui diciamo secondo me una definizione va appresa di quello che precisamente stiamo discutendo un altro punto secondo me importante è quello diciamo del rapporto tra teoria e periferia cioè nel senso che noi siamo stati spesso come dire noi parliamo spesso di teoria urbana a livelli altamente astratti però abbiamo una difficoltà di scendere di scendere sul campo e per questo diciamo abbiamo anche delle difficoltà di identificare una teoria anche se appunto poi io rispetto al tuo lavoro devo dire che ci sono anche dei punti di contatto quando scrivemmo con Luca con la IAMQ la vecchia IAMQ il libro New Ecology in cui parlavamo di periferia parlavamo di architettura però come già è stato detto smontando quello che è diciamo l'oggetto architettonico invece parlando delle relazioni parlando della resilienza parlando dei rapporti della comunità parlando del New Ecology nasceva trasformando il nome New Economy per cui anche però anche diciamo degli aspetti economici per questo come dire sicuramente io penso che andiamo in questa direzione andiamo nella direzione che tu ci stai indicando però credo che credo che ci sia ancora una grossa difficoltà a trovare questi nuovi paradigmi perché in realtà in questo momento è proprio diciamo nella disciplina architettonica stiamo assistendo a una come si dice a due derive una deriva verso appunto l'architettura assoluta e invece un'altra deriva verso invece l'architettura che diciamo che perde la propria forma non so come dire un'architettura legata più aspetti tecnologici legati a eventi mondiali invece l'architettura assoluta si lega più a un discorso non dico di locale però un discorso teorico ben preciso ben incanalato in quello che è per questo diciamo abbiamo queste due io adesso sto divagando sul campo dell'architettura diciamo per questo io quello che ti vorrei chiedere ecco vediamo dove trovo le domande perché ho scritto tante cose ah un'altra cosa importante che secondo me è quella del covid-19 il covid-19 come tu hai detto ci ha in qualche modo stimolato noi progettisti e non solo ha stimolato il fatto che improvvisamente ci siamo accorti che le nostre città non funzionano in questo caso non hanno delle risposte adeguate per quanto riguarda in un caso di pandemia e questo però io lo riporto sempre all'imprevedibilità di quello che succede è un evento imprevibile però noi non siamo riusciti diciamo a prevederlo però un discorso che è uscito è stato quello dell'adeguamento che l'architettura e i soggetti che fruiscono dell'architettura possono fare cioè nel senso che probabilmente i progetti architettonici devono contenere come dire una certa che non flessibilità neanche trasformabilità però una certa empatia verso l'essere umano e parliamo dell'abitare che ha parlato prima di Giorgio il mondo dell'abitare che ha parlato prima Giorgio che fa sì che ci sono delle potenze che possiamo sfruttare delle potenzialità per trasformare e adeguarci a quello che succede per cui forse la parola flessibilità è una parola vecchia anni 70 il progetto flessibile noi sedi prai fan palace eccetera però probabilmente possiamo come dire avere delle potenzialità progettare delle potenzialità per come dire avere queste trasformazioni avere queste potenzialità per cui l'ultima cosa che ti volevo dire è questa è questa se pensi che debba cioè che l'architettura sia come come disciplina è antiquata cioè non è più una disciplina utile alla crescita delle città non ritornando a non avere più gli architetti però magari ad avere delle figure che in qualche modo siano sempre degli architetti però che hanno delle qualità delle conoscenze delle potenzialità diverse senza di farli diventare però dei tecnologi senza farli diventare come dire lontani a un aspetto anche umanistico che la nostra disciplina e poi posso dire un'altra domanda proprio questa buccia piena ma possono sparire le periferie cioè nel senso che è un problema che ci porteremo sempre dietro oppure ci sono secondo te delle potenzialità delle come dire c'è la possibilità che la periferia sparisca cioè in quello che 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 dici nelle nelle tua nella tua previsione le tue previsioni le periferie non ci saranno più o le periferie le periferie non ci sarà più centro e periferia o ci sarà centro e altri centri o qualcos'altro cioè c'è una visione un'immagine tu quando parli anche di visioni perché certamente quello che pensi va in qualche modo ehm come dici tu va nella direzione di avere delle visioni delle potenzialità di questo secondo te c'è sparisce la periferia o diventa qualcos'altro oppure c'è sempre questo rapporto di dualità quando si progetta una città un luogo urbano un luogo antropizzato che appunto il fatto che ci sia un centro e ci sia una periferia e niente l'ultima che mi sono scritto che te l'avevo scritto te l'ho detto da prima il determinismo e l'ecodeterminismo cioè perché dobbiamo avere più fiducia in un termine in un paradigma adesso invece verso un altro no? più o meno insomma non so se è stato chiaro ti ho raccontato un po' i miei appunti perché è meglio così nel senso che così è più una chiacchierata magari possiamo più che una eh allora no dicevo tra l'altro quello che dici mi aiuta se ho capito tutto mi aiuta anche a precisare magari alcune cose in quello che che ho detto perché poi la parte forse più diciamo perché una parte ovviamente non ho potuto approfondirla allora cominciamo dall'aspetto del del progetto o ecco progetto allora dal mio punto di vista ecco questa è una cosa che forse posso precisare io penso che la condizione attuale le crisi attuali che sono così estese vanno al di là del fatto ambientale almeno il fatto ambientale ha comunque eh attaccato anche ogni sistema diciamo così organizzativo della nostra società va dal di là del fatto che ormai si possa proporre diciamo rispetto a un mondo in cui la disciplina tradizionale si è chiusa riccio rispetto come dicevi tu rispetto alla complessità in una forma più assoluta diciamo che rifiuta questa complessità e quindi si chiude l'alternativa secondo me non è appunto come quello che dicevi tu cioè l'eco progettazione cioè la progettazione tecnologica ossia la trasformazione di questa come dire dell'architettura in qualcosa che attraverso magari anche dei gadget risponda tecnologicamente a quello a quello che a quello che è la crisi ambientale cioè quello che sto dicendo è che spesso ho notato che quando parlo di queste cose io stesso probabilmente è un fatto dialetico vengo frainteso nel senso che che sto dicendo non c'è più l'architetto e l'architetto è quello che si occupa dei pannelli fotovoltaici o della performance dell'edificio io la penso penso invece quindi vado direttamente a rispondere alla domanda cioè se della figura dell'architetto esisterà o no io penso invece che questo è il momento il momento in cui la figura dell'architetto possa diventare addirittura una figura fondamentale fondamentale come non lo è mai stata prima o meglio come lo è stata in tutti i momenti di crisi ora ovviamente c'è una dualità di che cosa sia l'architetto quindi abbiamo due definizioni storiche c'è uno è il capo perché a volte magari l'obiezione è ma allora smettiamo di costruire e costruiamo visione ma secondo me sì cioè in realtà c'è questa dualità della terminologia una recente che dice architecton che è il capo 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 costruttore ma c'è anche l'altra diciamo più filosofica a cui faccio riferimento è il costruttore di idee quindi non solo secondo me dal mio punto di vista la figura dell'architetto sarà importante in questa fase storica ma sarà più importante proprio quella figura di architetto umanista cioè di architetto che sia in grado di riunire i puntini di una complessità che in questo momento non viene considerata se non per parti cioè per essere chiari ogni volta che mi dicono mi dicono no vabbè ma l'architetto se non costruisce che cosa fa oppure no ma il climatologo ne sa di più però mi domando e dico ma chi è in questo momento storico e politici non lo stanno facendo chi è in questo momento storico in grado di avere di assumere una posizione strategica come è stato anche in passato da parte degli architetti all'epoca si chiamavano se prendiamo il rinascimento si chiamavano poligrafi io inquadro l'architetto in quella figura lì un architetto di un poligrafo cioè chi è che in questo momento è in grado di fare sintesi su queste possibilità su queste visioni se non un architetto quindi io continuo a essere ottimista proprio sul ruolo sul ruolo come posso dire umanista dell'architetto e sul ruolo sulla figura strategica meno operativa e per quanto paradossale mi sono accorto che appunto siccome ho parlato spesso di sostenibilità io considero l'idea dell'architettura sostenibile intesa come paradigma interno dell'architettura un paradigma che in questo momento non risponde più alle esigenze dei cambiamenti di cui stiamo parlando quindi il cambio di paradigma è necessario da tutti i punti di vista se no succede quello che dicevo prima quando facevo vedere la Samsung Saffir scala che noi prendiamo il paradigma dell'architettura che abbiamo e cerchiamo di ridurre il suo impatto questo è sostenibilità cerchiamo di ridurre il suo impatto ecco io penso quando parlo in questo momento parlo di resilienza perché mi riferisco a questo cioè faccio una domanda di tipo filosofico poi non è che la risposta è che l'architettura come la intendiamo oggi non solo diciamo come elemento chiamiamolo così di artificio realizzato per creare un habitat per l'uomo in contrapposizione rispetto alla natura ecologica di ogni cosa che si trova dentro questa biosfera sia sbagliato cioè la mia domanda è ma non è che il problema non è che non si deve fare l'architettura o che l'architettura debba fare in un modo o in un altro ma non è che noi diamo per scontato che l'architettura si nutra solo di un paradigma o diciamo di uno di una di una natura di un'ontologia filosofica che è quella dell'artificialità che in realtà non è altro che un processo di reificazione che abbiamo costruito per qualche centinaio di anni pensando che sia indistruttibile e ti dico dove voglio arrivare cioè il la biologia dell'evoluzione io vado sempre lì diciamo ci dice che in realtà quello a cui dobbiamo rinunciare non è il progetto non è la creazione è il pensare che la creazione si esurisca con un solo con un solo paradigma che è quello del determinismo cioè questo paradigma esisteva esisteva anche in biologia dell'evoluzione per molto tempo ed è durato fino agli anni 80 quando è stata fatta una ricerca estremamente estremamente interessante che oggi è diventata la come dire è centrale quindi la periferia è diventata centralità nella nella biologia come in fisica quindi io sto dicendo ma non è che la periferia può diventare centralità anche in architettura e arrivo al dunque cioè tu hai detto il problema è che la complessità non è governabile diciamo è molto è molto estesa quindi è difficile da governare quindi abbiamo due risposte una è quella di rinunciare a governare questa questa complessità oppure quella di creare delle visioni la biologia dell'evoluzione ci indica una terza via cioè esiste un modo ci dice esiste un modo per essere resilienti senza necessariamente prevedere il futuro un po' un paradosso però è così e questo meccanismo è un meccanismo fondamentale della selezione naturale e si nutre di che cosa si nutre questo meccanismo si nutre di creatività cioè la creatività opera per associazioni anziché per logica lineare quello che sto dicendo è che non solo l'architettura è importante perché ci consente di unire i puntini quindi perché l'architetto è forse una delle poche figure che possono assumere un ruolo strategico ma è importante perché l'architetto è l'unico che per lavoro estremizzo per lavoro dovrebbe utilizzare quella che i paleantropologi dicono è la modalità associativa cioè l'architetto chiamiamo così l'artista è nato in un certo periodo preciso della storia dell'evoluzione dell'uomo tra 200.000 e 90.000 anni fa ed è quella persona che anziché usare la logica lineare ha cominciato a usare una logica di tipo diverso cioè la logica delle connessioni cosa fa questa logica delle connessioni consente di mettere insieme quello dicevo prima diversità variabilità ridondanze in modo tale che tu non sei obbligato a prevedere il futuro tu sei obbligato tu invece tendi a realizzare opportunità che poi possono essere cooptate funzionalmente qui arrivo alla risposta all'altra domanda cioè il futuro è quindi nella flessibilità e dicevi giustamente un termine che si usava in una fase storica ecco i biologi usano un termine secondo me utilissimo che si chiama cooptazione funzionale quella è la flessibilità che usa la selezione naturale ed è quella ed è quel tipo di flessibilità che a me personalmente sembra possa essere interessante per capire per capire come realizzare delle visioni che non ipotizzano che succederà questo quindi io rispondo a quella condizione con queste cose ma ipotizzano queste visioni la possibilità di creare strutture ridondanti variabili e aumentare la diversità a un punto tale che ogni possibile evento possa essere assorbito o come dire possa avere una risposta grazie alla cooptazione funzionale dico faccio un esempio diciamo di scienza più che altro per capire cioè il genoma umano noi sappiamo che il genoma umano è fondamentalmente utilizzato soltanto al 60 al 40% il resto del 60% non è utilizzato è privo di funzione ora questo non è un errore della natura la natura ha progettato progetta ogni struttura in modo creativo e in modo creativo secondo la biologia vuol dire questo progettare avendo la capacità di realizzare strutture sistemi che possano essere cooptati funzionalmente e qui lancio anche una provocazione ma non è che sto facendo la come dire l'apologia del barocco o del gotico però come mai se noi abbiamo questa convinzione che c'è sempre stata ma diciamo è diventata fortissima dagli anni 30 diciamo così tale per cui la macchina per abitare eccetera eccetera come mai noi proviamo piacere quando vediamo un'architettura fondamentalmente inutile come non so San Carlo le quattro fontane o quando vediamo un edificio barocco o quando vediamo un edificio proviamo anche odio anzi quando vediamo un odiosissimo edificio di Zadid lo odiamo profondamente o lo amiamo profondamente come mai la ragione in biologia può essere spiegata da questa ipotesi cioè che in realtà il nostro cervello funziona in quel modo funziona per ridondanza non funziona per logica come pensiamo noi o meglio funziona sia per logica che per ridondanza ma la risposta ai fenomeni inaspettati non avviene per logica ma avviene per ridondanza quindi la complessità noi la possiamo abbracciare ma la possiamo abbracciare soltanto attraverso una risposta non cercando di capirla secondo modelli razionali ma capirla secondo modelli associativi non so se si capisce cosa volevo dire non sono sicuro se mi sono capito neanche io grazie no assolutamente mi sembra veramente una cosa un'espansione molto molto interessante ci sarebbe ci sarebbe veramente da parlare per delle ore ma a me stiamo arrivando quasi alle alle due ore quindi stiamo mettendo alla prova il nostro io mi avevo divertito Fabio ti avevo detto che ero la corroccia ma noi ci diciamo ci disponiamo all'ascolto veramente con una pazienza e con un entusiasmo soprattutto perché io mi sono messo un baglioncino così per sollecitare per sollecitarci anche cromaticamente no perché quando quando si addormenta si risveglia vecchi trucchi da professore Giorgio De Fis credo ti volesse fare un'altra breve domanda dopo dopodiché impacchetteremo la confusione e ci saluteremo grazie Giorgio solo se Alessandro ha ancora un minuto di pazienza e di energia se no io come dire rinuncio no ma mi interessava un attimo chiederti qualcosa di più sulla diciamo sulla resilienza che tra l'altro è un po' da quello che leggevo a suo tempo il tema no anche della tua del tuo padiglione insomma sarà un po' al centro diciamo della tua riflessione e volevo portare in questi termini soprattutto diciamo guardando quello che sta succedendo in questi giorni in Italia ma insomma l'abbiamo visto anche negli Stati Uniti magari fuochi accesi dall'ennesimo episodio di razzismo no però diciamo c'è una città che è anche arrabbiata insomma allora io quello che volevo dire era cercare di articolare appena appena ma sono sicuro che tu lo contempli contempli anche le arrabbiature diciamo all'interno del concetto di resilienza se no sembra sempre che la la città resiliente è quella che incassa diciamo no tutte le le legnate e invece c'è anche secondo me una città che giustamente a un certo punto si reagisce non sto dicendo che bisogna trasformare le vetrine di Gucci nel grande vetro di Duchamp necessariamente però diciamo che c'è una città che insomma sta manifestando anche una sua difficoltà e lo dice anche qui mi interessava capire perché il pregiudizio poi nei giornali della stampa mi ricordo un testo di Toraldo di Francia che immaginava i ragazzi delle periferie che andavano a sputare sui perché odiavano i centri la ricchezza dei centri andavano a sputare sui citofoni in un articolo di qualche mese fa la Repubblica commenta gli episodi di Torino dicendo che gli adolescenti delle periferie attaccano i centri eleganti insomma quasi ci fosse no di fondo un'invidia diciamo però diciamo ecco io volevo intanto riflettere al di là dei pregiudizi siennesimi che sempre abbiamo però un po' su all'interno del concetto di resilienza tu come vedi anche diciamo il conflitto ecco per esempio all'interno della no diciamo dico una cosa mi scopro mi scopro però tanto è devietato quando vedrete qui così vi quando vedrete il logo del Padiglione Italia capirai che sono assolutamente d'accordo con te il logo della resilienza non posso dire di più perché se no mi sparano se dico però non dovrò dire niente quando vedrai il logo dirai capirai cioè sì allora diciamo così secondo questo mi dai l'opportunità di fare di fare una precisazione come il caso di Carmelo mi è utile questo scambio proprio perché poi nella sintesi nella comunicazione alcune cose come dicevo prima Carmelo passano cioè so già come è capitato nel passato so già che usare un termine resilienza o sostenibilità poi si incorre in tutta come dire una fenomenologia che ci gira intorno questo deriva dal fatto che da quello che ti dicevo prima cioè dal tema dell'impatto cioè io mi trovo in questa condizione siccome sono soprattutto negli ultimi otto anni mi sono trasformato più diciamo da professionista in ricercatore mi trovo di fronte a questo problema cioè devo trovare un equilibrio tra in questo caso la complessità della ricerca scientifica e la semplificazione della comunicazione cioè in questo momento per essere chiari la parola resilienza lo dico perché è già capitato magari ama resilienza è troppo avanti o è superata la resilienza è il punto di equilibrio tra queste tra queste condizioni cioè c'erano termini che sono in qualche modo già stati masticati e sputati via dalla comunicazione altri termini che avrei potuto usare come responsività che sono responsività o sviluppo positivo che si usano o metabolismo urbano che si usano nella ricerca ma che sono totalmente incomprensibili resilienza è il punto di contatto tra questi due mondi quindi è una parola che necessariamente sarà criticata da alcuni perché è troppo semplice o troppo come dire già masticata soprattutto in due anni ho già visto che è cambiato tantissimo da quando l'ho proposta oggi è cambiata la dinamica questo per arrivare a dire che quando io parlo di resilienza come dicevi giustamente tu io parlo di responsività cioè è reazione anche cioè il termine della resilienza come lo usiamo nella ricerca è significa non assorbire e subire ma resettare riaggiustarsi e trovare una condizione chiamiamola così di equilibrio o di disequilibrio positiva quindi diciamo non significa appunto come dicevi tu incassare o meglio significa riuscire a trovare pur incassando come dire i colpi più forti riuscire a rispondere per riequilibrarsi in una modalità sperando anche migliori di quelle che conosciamo oggi ma l'aspetto secondo me più importante di quello che tu hai detto è questo cioè che deve essere chiaro che qui quando in questo momento parlare di resilienza significa dire che ormai le crisi globali non sono più crisi o ambientali o sociali ormai le due cose sono sono parte di uno stesso di uno stesso fenomeno per cui tale per cui i maggiori fenomeni sociali in questo momento come la pressione dell'immigrazione e le guerre hanno una natura diciamo ecologica molto molto rilevante quindi non si può più affrontare il tema ma senza affrontare il problema come dicevo prima della responsabilità politica e sono d'accordo con te quando dico che la responsabilità politica in questo caso non vuol dire resilienza subire ma anzi un elemento fondamentale della resilienza in campo sociale in campo in campo scusa nel campo urbanistico sono i movimenti degli attivisti cioè il padiglione non potrei dirlo ma questo lo dico perché sono un attivista non posso il padiglione Italia sarà comunque sede di attivismo culturale e politico questo non se ne può fare a meno perché non esiste resilienza senza quello che dicevi tu cioè senza la possibilità o la capacità che il sistema risponda agli stimoli che avvengono soprattutto gli stimoli degenerativi ed è poi quello che dicevo prima cioè il tema della diversità non si declina solo della diversità variabilità ridondanza non si declina più in questa diciamo ipotetica analogia con la biologia dell'evoluzione non si declina più soltanto in termini architettonici ma si declina soprattutto in termini sociali cioè non esiste architettura buona se non si eliminano se non si eliminano se non si va oltre la come dire la le questioni sociali cioè architettura live matters diventerà sicuramente strumento di creatività fortissima in termini architettonici di architettura migliore di quella che conosciamo oggi per fare un esempio io non so credo che abbiamo superato le due ore Fabio se vuoi grazie grazie Alessandro per la sua generosità veramente grazie a chi ci ha seguito mi dispiace c'erano delle altre domande ma ormai non faremo non faremo in tempo a rispondere quindi a parte invitarvi comunque a continuare a stare con noi potete riascoltare diciamo l'interessante lezione di Alessandro rimarrà comunque negli archivi del museo della periferia se ne siete persa una parte o anche se la volete se la volete risentire e vi invito tutti domenica prossima per la nuova lezione di Francesco Careri che si titolerà Circo case rinunciabili di ricreazione civica e ospitalità con questo direi che abbiamo concluso grazie a tutti voi e arrivederci